Si sono aperte le porte del carcere per un trentenne originario di Buccino. L'accusa è possesso di materiale pedopornografico e tentativo di violenza sessuale nei confronti di minorenni. Secondo la ricostruzione degli agenti della squadra mobile di Salerno, il trentenne adescava le ragazzine via Instagram. Le vittime preferite erano ragazzine dagli 11 e 13 anni, alle quali inviava foto dei suoi genitali e video mentre si masturbava, chiedendo alle stesse di fare altrettanto, oltre ad usare un linguaggio volgare e a tratti anche violento. Durante la perquisizione effettuata dai poliziotti della squadra mobile agli ordini dei vicequestori Castello ed Ingenito, nell'abitazione dell'uomo è stato trovato vasto materiale pedopornografico, centinaia di file e videopornografico, una ventina di filmati, materiale ritenuto utile per le indagini e sottoposto a sequestro.